E allora benvenuti per gli anni in un nuovo video di questo canale, oggi vi voglio parlare dell'importanza sia in mix che in mastering, del de-esser e del limiter di alta frequenza. Stavo girando per video di descrizione delle chain dei mastering engineer più famosi e sto studiando un po' tanto su mix with the masters e c'è una cosa che salta sempre fuori, cioè il fatto che si usano tantissimo ed essere in digitale molto più che in analogico. E uno degli errori che facevo io era portare semplicemente quello che avevo imparato in analogico quando lavoravo sull'Oramo, sull'SSL, con l'Antonella Ruggero, poi in digitale. In digitale praticamente cosa succede? C'è molti più transienti ad alta frequenza che nel mondo analogico non ci sono. Questi transienti ad alta frequenza sono molto pericolosi perché tendono a farti schiarire meno le cose. E molte volte quella sensazione di suono aperto che c'è in analogico non è nient'altro che un suono più brillante che è potuto essere stato tenuto in equalizzazione più brillante appunto perché ci sono meno transienti ad alta frequenza che danno molto fastidio. Anche perché dobbiamo pensare a tutti quegli elementi che possono appiattire i transienti ad alta frequenza nel mondo analogico. Prima tra tutti il nastro. Il nastro può sì andare a registrare ad altissima frequenza, come abbiamo visto nei vari papers dell'AES, ma questo non ti specifica però quanto possa riprodurre questi transienti e la realtà è che te li sega tutti. Il vinile ha un limiter praticamente per i transienti ad alta frequenza, un DSR, uno su cinque, poi dipende da in realtà da che marca è il vostro tornio per la lacca, però hanno di solito, il mio aveva un DSR sui 5000 Hz e un limiter praticamente multibanda che lavorava soltanto sulle alte frequenze per tenere giù appunto tutti questi transienti, che non è che non ci sono, sono semplicemente molto schiacciati in alcuni casi anche distorti. Un altro posto in cui ho trovato questi limiter ad alta frequenza, ad esempio, è negli Orban, quindi nei processori diciamo di mastering automatico che ci sono all'uscita del mixer prima di andare in emissione. Questi sono dei... li abbiamo visti in un vecchio video dove vi avevo fatto vedere una soluzione software per gli Orban che si chiama Stereo Tools. All'interno dello Stereo Tools è presente l'HF limiter e l'HF clipper, quindi un modo di appunto andare a clippare queste alte frequenze per poter essere più brillanti e quindi far fermare l'ascoltatore quando sta girando nelle loro, diciamo, tra le varie situazioni. Ovviamente il trade è quello che si perde, lo snap dello snare, si possono impastare le voci perché le S magari vengono tagliate troppo, quindi bisogna stare comunque attenti. In un altro caso in cui, ad esempio, nella mia esperienza, sul disco di Audi di Venire, in fase di mastering c'era acceso un DS1 della Vace, la versione hardware, non la versione plug-in che è uscita poco tempo fa, che appunto andava a fare un po' di limiter solo sulle alte frequenze quando in Audi andava nelle altissime sul pianoforte perché ci dava la sensazione di una roba un pochino più analogica e questo mastering era full digital, quindi dal Mac si andava al System 6000 che poi andava al DS1 che poi tornava via speed if praticamente all'interno della macchina, non c'era uscita analogica in questo mastering, ma era comunque presente un DSR. Io per tantissimi anni ho usato il Waves DSR, non l'R DSR, il DSR, quello normale, subito dopo il mio limiter ed è stato, diciamo, l'unico stage di DSR che avevo sul master. Piano piano andando avanti sto invece scoprendo pratiche diverse, ad esempio Chris Lord Algy ha su ogni traccia del suo Pro Tools che esce verso il suo banco un DSR per simulare il DSing che fa il tape, quindi se lui prende il suo multitraccia da un 24 piste a nastro non gli servirà ovviamente un DSR su ogni canale, va direttamente dal suo banco SSL, ma se arriva da Pro Tools in digitale mette un DSR su ogni canale in modo che lui è libero di poter schiarire molto i suoni senza avere, diciamo, suoni fastidiosi. E quindi è importante averlo sia prima che dopo il compressore nella vostra chain. Se vi immaginate una chain, ad esempio, della vostra voce, potrebbe esserci prima un DSR, poi l'equalizzazione del compressore della vostra voce o due compressori, dipende poi come la fate, e poi un altro DSR magari per andare a ricorreggere le ultime cose che magari sono state enfatizzate dai due compressori nella vostra voce. Prima di scegliere come equalizzare la vostra voce, se avete un DSR prima di questo stage, siete sicuri di poter osare in brillantezza senza il rischio di tirare indietro l'equalizzatore semplicemente perché vi fanno male le orecchie come io stasera, oggi ho lavorato veramente troppo, le orecchie veramente cotte. Quindi questo stage. Un altro stage è appunto invece quello del High Frequency Limiter che ho trovato nel plug-in dell'Ik Multimedia, del Lussenburg, oddio, ma non mi ricordo mai come si chiama, la Mastering Console dell'Ik, il Lursen. Nell'Ursen, in tutti i preset delle lore chain, cambiano, cambiano tipi di equalizzazione, e cambiano tipi di compressione, ma c'è un chain che non cambia mai. C'è sempre l'High Frequency Limiter, cioè c'è sempre un DSR prima dell'ultimo compressore del limiter finale che va appunto ad attenuare un po' questi picchi ad alta frequenza. Quello dell'Ik Multimedia, abbiamo visto nell'ultimo video, è particolarmente musicale quando suona, ho provato anche a schiantarci dentro degli snare molto molto brillanti e fa un bel effetto di pumping nelle alte frequenze, però mi ha fatto pensare a questa cosa. Ho visto recentemente anche un altro paio di catene praticamente di mastering dove ci sono o dei DSR broadcast in catena prima dell'ultimo convertitore oppure vengono usati i convertitori stessi analogico-digitale come DSR. Ci sono alcune impostazioni nell'Avri che ti permettono di dessare quando entri clippando e se lo metti in modalità tape praticamente. Io ho sempre preso in giro alcuni mastering engineer, anche famosissimi, per questa cosa di usare il Lavri in modalità tape, che era la modalità meno lineare possibile. La realtà è che ero un cretino io. Loro lo usavano in modalità tape perché li aiutava ad avere un suono poco acido nonostante fossero molto brillanti con l'equalizzazione entrando appunto all'interno di quest'ultimo stage di Clipper. Quindi ecco, la mia idea di questo mini video è questa. Pensate più spesso a il DSR. Se volete degli iFrequency Limiter gratuiti, ce ne sono un paio che ho segnalato in Riperiani Shopping che è il mio canale Telegram dove vi consiglio tutti i vari plugin gratuiti che trovo in giro, sconti che ci sono su Amazon con il mio referral oppure plugin in sconto del giorno e ho trovato praticamente il limiter number 6 che è questo qua, il limiter number 6. Vedete che ha un HF Limiter appunto attivabile a piacimento oppure mi sono ritrovato a fare un'altra cosa. A fare... è una cosa che ho fatto spesso nel Patreon quindi i miei Patreon riconosceranno questa catena. uso lo splitter di... lo splitter praticamente di Ripper e poi un joiner controllo che gli in siano tutti collegati quindi diventa 6 canali praticamente con l'1, 2 le basse, nel 3, 4 le medie, nel 5, 6 le alte e nel 5, 6, cioè tutte le frequenze sopra i 2000 Hz questo in realtà poi ogni tanto lo sposto a 5000 dipende dalla canzone metto praticamente un L2 della Waves che lavora semplicemente sul 5, 6 quindi in questo caso questo L2 lavora solamente sulle alte frequenze ed è molto molto inspiring epic piano. Quindi posso andare a limitare solo le alte frequenze e avere un suono più analogico ovviamente senza esagerare oppure posso attivare appunto l'HF limiter molte volte disattivo l'arc e scelgo un tempo di rilascio un pochino più lento per questo HF limiter cerco di metterlo a tempo con la canzone però questo è un altro modo che ho trovato di fare high frequency limiting altri modi sono appunto di usare il DSR, quello della Waves quello diciamo base baracca quindi andare a sentire il problema di questo DSR è che non ha gain up quindi non potete decidere come in questo caso di schiacciare e poi dare gain questo potete schiacciare e basta però se schiacciate e basta poi potete recuperare con un'equalizzazione ad esempio prima di un limiter sulle tracce singole invece dicevamo l'RDSR è la cosa più simile a un tape che ho trovato non in questa modalità ma nella modalità high shelf vado semplicemente a far ballare la traccia in modo che sia un pochino appunto schiacciata altri DSR belli che uso ah il TDR Nova che non ho installato su questo computer ce l'ho installato al lavoro il TDR Nova è un'equalizzazione dinamica se voi vi mettete sull'i-shelf mettete la ratio al massimo e scendete con la trisciol potete avere un effetto di DSR molto molto bello questo è particolarmente bello ed è gratis tipo è incredibile sta roba però è veramente fantastico questo tipo il TDR Nova plug-in del mese nel mix box nella dinamica c'è questo DSR molto molto bello ci sono soft avete un range che potete stringere oppure tenere fino ai 16k questo suona molto molto bene mi piace molto oppure un altro DSR che sto usando parecchio l'RX8 DSR non so se ho attivato la licenza qua no non l'ho attivata ho l'RX7 ho scritto TX sono un cretino no ce l'ho più critico non lo uso mai nella modalità spettrale lo uso sempre nella modalità classica ed è questo è buono sui singoli strumenti non sul master sul master non l'ho mai trovato troppo efficace sto pensando ad altri DSR vabbè io poi sono uno di quei cretini che si è comprato l'SPL DSR quando costava tipo 150 euro questo qui è fantastico sul master soprattutto nella sua modalità MS quindi nel mastering MS DSR è una delle modalità per cui più lo più lo uso ho un altro tipo di DSR poi nell'UAD che è il refinement il brainworks refinement è una specie di DSR valvole si può chiamare così il suo gioco è quello di poter praticamente andare ad ammorbidire il vostro mix un po' come può fare il SUTE S-O-T-T-H-E quindi ammorbidite il mix per poi schiarirlo molto e uno dei miei giochi preferiti è ad esempio con il mix refinement tenere giù l'acidità del brano e boostare la banda air dell'EQ4 ad esempio oppure tirare una pull techata 16k devastante ma tenere giù i transienti con i DSR un modo per essere brillanti e densi ma mai troppo acidi l'unico modo purtroppo che io personalmente ho trovato di capire se il mio brano è acido o meno è purtroppo ascoltarlo ad alto volume se il mio brano ad alto volume nelle mie casse o nelle mie cuffie non mi dà fastidio ma mi viene voglia di alzare il volume vuol dire che ho applicato abbastanza de-essing o abbastanza de-refinement con questo brainworks se invece alzo mi raccomando fatelo per pochi secondi non fatevi un'ora di ascolto tirate su un attimo il volume dalle cuffie perché come al solito vi consiglio di lavorare al volume più basso possibile in modo da non rovinarvi le orecchie come ho fatto io oggi ma tirate sul volume e vedete quanto vi dà fastidio la vostra canzone ad alto volume se vi dà fastidio non è un buon diciamo un buon obiettivo provate con delle canzoni famose di top 40 vedete che potete alzare molto il volume prima di diventare fastidioso ed è un po' l'obiettivo che devono avere anche i vostri mix e i vostri master a mio avviso soprattutto in un studio dove si rischia spesso di essere un pochino acidi altri modi di fare high limiting dancing con linear multiband no mi trovo sempre male quando faccio schiacciare le parti dell'altra frequenza sono sempre di merda ci sei waves non ce l'ho non ho licenza penso di averli detti tutti però veramente fateci caso perché molto spesso siamo poco brillanti perché siamo poco deessati un po' come la mia voce in questo momento non è molto brillante perché se la schiarisco diventa fastidiosa ma perché ha un solo deessare in catena proverò a metterne qualcuno in più nei prossimi video ciao ci vediamo al prossimo spero che sia stato un discorso interessante una robina così da dieci minuti per non romperti troppo le balle però pensaci di essere perché è una cosa che per noi che abbiamo vissuto la transizione dall'analogico al digitale non abbiamo ereditato perché l'analogico non serviva perché appunto venivano già limitati per cazzi loro dai vari stadi di amplificazione anche all'interno di un mixer in digitale servono perché non c'è niente che li può fermare ok ciao ciao